Ciao porno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Francia-Croazia 4-2 La Francia vence il suo secondo mondiale Devo dire che la Croazia forse non ha meritato di perdere questa partita Perché ha giocato in un modo in cui è stato buono Però non ha meritato di perderla La Francia ha fatto dei bellissimi gol Come il gol di Mbappe era bellissimo Il gol di Pogba era bellissimo Tutti gli altri gol della Francia erano ok La Francia vence il suo secondo mondiale Devo complementare la Francia perché ha fatto un obiettivo grande Speriamo che in Qatar l'Italia possa arrivare E può fare qualcosa in più Comunque il mondiale è finito qui La Francia è campione del mondo per la seconda volta dopo il 1998 Mbappe è uno di 19 anni Che è un talento perché ha 19 anni E' l'ultimo giocatore di aver avuto meno di 20 anni A vincere un mondiale è stato Pelé Quindi si fa vedere che Mbappe può essere come Pelé Non si sa Comunque la Croazia Che cosa ha fatto però poi Lo risse Cosa ha fatto? Aveva il pallone tra i piedi E se l'ha fatto scappare E ha fatto 4-2 Però non è servito a niente quel gol Perché la Croazia non ce l'ha fatta Comunque scrivete qua giù nei vostri commenti della partita E vi lo seguo ancora in cui cliccate Mi ha guardato Ciao E forza Juventus Stava a iniziare il nuovo campionato Ciao